Ciao a tutti, ciao, sono Roberto Lipari e ci sarò anch'io giovedì 20 luglio alle 20.30 in diretta su Italia 1 allo stadio Romeo Neri di Rimini per la partita del cuore per la Romagna. È un'occasione straordinaria per fare beneficenza per chi ha subito danni, che è vittima delle alluvioni. Infatti scenderanno in campo la Nazionale Cantanti e il Golden Team. Chi volesse comprare i biglietti ricompri perché è un'ottima occasione per fare beneficenza. Ma chi vuole già donare per Media Friends può donare al 45597. Un bacio, ciao!